Bene, anche oggi facciamo qualche esercizio e soprattutto del ripasso sul concetto di equilibrio delle forze. Abbiamo visto che le forze che abbiamo studiato sono essenzialmente la forza peso, la forza di attrito, in realtà attrito radente, le forze, poi la forza elastica e le forze vincolari. Mentre per il concetto di equilibrio si intende questa situazione, se a un corpo sono applicate diverse forze, la forza risultante, cioè la somma vettorale di tutte le forze, da zero. In questo caso si dice che il sistema, o il corpo, l'oggetto è in equilibrio. Ok? Bene, e quindi questo è il concetto di equilibrio. Poi più avanti ci occuperemo della situazione in cui l'equilibrio non sussiste, cioè la risultante non è nulla, e quindi vediamo il legame tra forze e moto. Per adesso ci occupiamo di questa situazione, andiamo a vedere come si applica questo principio in diverse situazioni, come abbiamo già visto, vediamo per esempio questo, il caso in cui, immaginate di appendere un quadro, ok, o vogliamo appendere un oggetto e sfruttiamo due punti su una parete, immaginate che questi due punti siano la stessa quota, chiamiamoli A e B, e prendiamo un cavo più lungo di A e B e nel punto medio, qui, appendiamo il nostro quadro, quindi abbiamo, qui sta nella nostra cordicella, legata ai due chiodi, nel punto P, non chiamiamolo C perché P si confonde con peso, e appeso il nostro quadro che rappresenta come un corpo di data massa, ok, e quindi se il nostro quadro è in equilibrio, cioè se i chiodi sono abbastanza resistenti, allora il corpo appeso in C agiscono tre forze, c'è la forza peso che agisce sul corpo C, quindi questo è il peso, e due tensioni, perché c'è il filo appunto, c'è la tensione del filo che va a destra, questa chiamiamola T1, e l'altra analoga a sinistra, T2, UTI e Tb, e immaginiamo anche di aver misurato che, scusate, ecco, questa è la linea d'orizzonte, questo angolo, c'è l'angolo che il filo fa con l'orizzontale, in un angolo alfa, supponiamo che alfa per semplicità sia, che ne so, 45 gradi, e che la massa del quadro sia di, che ne so, 5 kg, la domanda è in questo caso, quanto vale la tensione delle funi T1 e T2, quant'è tesa la nostra fune? Allora, qui, vado a riportare qua sotto le forze che agiscono, questo è il nostro punto di massa M, e associo al nostro punto degli assi cartesiani, fatemi scrivere in blu, questo è l'asse verticale, e questo è l'asse orizzontale, che teniamo X e Y, qui, il peso, adesso lo traccio in nero, una forza verticale, questo è P, poi ho i due vettori tensione, T1 e T2, ok, e il nostro sistema è in equilibrio, quindi la forza risultante ottenuta dalla somma vettoriale del peso più la tensione di destra più la tensione di sinistra deve dare zero. Inoltre, dato che alfa è l'angolo che il filo BC forma con l'orizzonte, quindi immaginate fatemi disegnare in verde leggero, ecco, questo è il filo, questo è l'orizzonte, ok, allora le due linee orizzontali sono parallele, quella che passa per il punto B, questo chiamiamo B e quello che passa per il punto C, sono parallele e quindi il segmento CB che funge da trasversale forma due angoli alterni interni che sono congruenti, quindi anche quest'angolo misura alfa, quindi 45 gradi nel nostro caso, per la stessa ragione anche questo angolo misura 45 gradi, ok, quindi il sistema è simmetrico, a destra e a sinistra del punto C perché l'angolo è lo stesso, anche questo è alfa, qui se prolunghiamo arriviamo nel punto medio, chiamiamolo M, ok, e quindi le due, le due, gli due angoli che le due tensioni formano con l'asse dell'X sono esattamente identici, d'accordo? Ora, il, il, scomponiamo le due forze, le tre forze, scusatemi, qui per il peso è abbastanza facile, il peso avrà una componente tutta lungo Y, quindi sarà 0 lungo X, vi ricordo che la prima con l'imponente X e la seconda Y, e lungo Y sarà meno Mg, meno perché? Perché punta verso il basso, ok, poi il vettore T1 avrà componenti sia lungo X che lungo Y, immaginiamo di scrivere T1 senza freccia sopra come modulo di T, quindi se questo T1 e il suo modulo vale T1 senza la freccia sopra, quindi vale T1 per, essendo la componente X per il coseno dell'angolo alfa, mentre Y sarà sempre T1 per il seno dell'angolo alfa in quanto componente verticale. Poi avremo il vettore T2 che qui la componente X di T2 punta verso sinistra, quindi nel nostro caso sarà meno T1 coseno di alfa e poi, scusatemi, non T1 ma T2, T2 coseno alfa e T2 sen alfa. Ok, quindi poi abbiamo la somma di queste tre forze e la forza risultante e quindi avrà la componente X uguale alla somma delle componenti X quindi 0 più T1 coseno alfa meno T2 coseno alfa e componente Y uguale alla somma delle varie componenti Y quindi meno Mg più T1 sen alfa più T2 sen alfa. lo scrivo qua sotto ecco così sono incolonati correttamente. Inoltre la condizione di equilibrio cioè che la forza risultante sia nulla e questo lo deduciamo dal fatto che il quadro quando è appeso non si muove questo significa che sono nulle simultaneamente sia la componente X della forza che la componente Y da cui questa somma è uguale a 0 e anche questa somma deve essere uguale a 0 cioè questo sistema si traduce in 0 più T1 coseno alfa meno T2 coseno alfa uguale a 0 e meno Mg più T1 sen alfa più T2 sen alfa uguale a 0 allora dalla prima delle due equazioni vediamo lo 0 più iniziale possiamo anche non scriverlo il il termine con T2 lo portiamo a destra quindi abbiamo T1 coseno alfa uguale a T2 coseno alfa e qui i due coseni si possono semplificare e quindi otteniamo che le due tensioni hanno lo stesso modulo che chiamiamo T T1 e T2 hanno lo stesso intensità il problema è ovviamente simmetrico ok quindi se T1 è uguale a T2 sotto possiamo utilizzare scusate invece che T1 e T2 scriviamo solamente T e quindi possiamo semplificare la seconda equazione abbiamo meno Mg che è il peso del quadro più T seno alfa più ancora T seno alfa che fa 2 volte T seno alfa quindi sfruttiamo la seconda equazione e abbiamo che meno Mg più 2 volte T per il seno di alfa fa 0 per cui 2 volte T seno alfa vale il peso Mg e quindi la tensione delle due della nostra fune e della nostra cordicella vale il peso del quadro Mg diviso 2 volte il seno di alfa e questa è la relazione che ci risolve il problema quindi se nel caso nostro abbiamo che la massa del quadro che non mi ricordo più quant'era 5 kg 45 gradi quindi se M vale 5 kg e alfa e 45 gradi la tensione T del cavo che tiene sospeso il quadro vale 5 kg per 9,81 metri al secondo quadrato diviso due volte il seno di 45 gradi che è radice di due mezzi quindi la tensione raggiunge un valore di fatemi calcolare rapidamente 5 per 9.81 diviso 2 diviso seno di 45 divine circa 34,68 newton ok vi faccio notare che il valore della tensione del filo è tanto più piccolo quanto più alfa e grande perché questo denominatore cresce se cresce alfa quindi al limite se alfa è 90 gradi quindi se i due a e b vanno a coincidere quel punto medio allora la tensione visto che ho due cavi che passano attraverso il gancio del quadro è la metà del peso nel caso alfa sia 90 gradi la tensione è minima e quella che vale questo seno alfa diventa 1 la tensione è la metà del peso poi invece se alfa è piccolo la tensione cresce diventa grande se alfa è piccolo se in alfa è piccolo essendo denominatore fa sì che questa frazione diventa grande ok qui chiudiamo l'esercizio se non c'è una domanda e passiamo a un altro e potremmo per esempio vedere 50 non l'ho preparato prima ancora il 55 a pagina 235 allora dice un sasso ha una massa m che vale 0,85 kg e si trova su un sentiero di montagna quindi con una pendenza del 17% di pendenza tra un attimo vediamo cosa significa questo rappresenta le forze e calcola l'intensità della relazione vincolare quindi qui il sentiero che è in pendenza lo pensiamo come un piano inclinato inclinazione alfa qui c'è il nostro sasso e ci sono sul sasso applicate sicuramente tre forze visto che il sasso è in equilibrio qui c'è il peso c'è la relazione vincolare disegniamola in rosso e c'è sicuramente anche la forza di attrito col terreno disegniamola in verde perché il sasso è fermo nell'equilibrio la forza risultante che vale peso più creazione vincolare più forza di attrito è nulla d'accordo? che significa la pendenza del 17% significa che fatemi rifare il disegno se dal punto A al punto B mi sposto di 100 metri allora mi alzo rispetto alla quota di A di 17 metri quindi questo è H e questo è L la pendenza è il rapporto H fratto L eventualmente in percentuale senza percentuale H su L nel nostro caso sarebbe 0,17 ok che come vedete bene se questo è l'angolo alfa vale il seno dell'angolo alfa perché il cateto opposto diviso l'ipotenusa d'accordo? allora come abbiamo visto già diverse volte in condizioni di equilibrio le componenti perpendicolari al piano inclinato cioè al nostro sentiero di montagna sono la reazione vincolare che punta verso l'alto e viene bilanciata dalla parte del peso perpendicolare al piano che è P perpendicolare cioè P per il coseno di alfa quindi per rispondere alla domanda quanto vale la reazione vincolare abbiamo bisogno di conoscere il coseno di alfa ma questo è abbastanza semplice perché essendo alfa un angolo acuto il coseno di alfa non sarà alto che la radice quadrata di 1 meno il quadrato del seno di alfa quindi nel nostro caso la radice quadrata di 1 meno 0,17 alla seconda che ci dà circa 0,9 di alfa per bene la radice quadrata di 1 meno punto 17 alla seconda 9 8 5 4 ok quindi r la reazione vincolare vale il peso che è la massa del sasso che è 0,85 chilogrammi per 9,81 metri al secondo quadrato c'è azione di gravità per 0,9 8 5 4 e otteniamo 0,85 per 9 punto 81 circa 8,22 newton ok se invece fossimo interessati alla forza di attrito quindi parallelamente questa è la risposta all'esercizio aggiungo anche questa considerazione la forza di attrito qui è quella che bilancia P parallelo cioè il peso parallelamente al sentiero cioè P per il seno di alfa quindi la forza che tiene in equilibrio il sasso che è la forza di attrito quel terreno vale mg sen alfa quindi 0,85 chilogrammi per 9,81 metri al secondo quadrato per 0.17 e quindi facciamo anche questo calcolo 0,85 per 9,81 per 0,17 circa 1,42 newton attenzione qui in queste condizioni ok la forza di attrito è la forza che bilancia P parallelo non è detto che sia attenzione qui il coefficiente di attrito per R è il massimo valore della forza di attrito se l'inclinazione alfa ok del piano non è superiore al famoso valore che è uguale alla tangente del sull'arco tangente del coefficiente di attrito la forza di attrito si esercita comunque e quindi è in grado di tenere fermo il sasso ma non vale mi volte la 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 reazione vincolare perché questo è il valore massimo ok della forza di attrito la forza di attrito agisce in modo tale da bilanciare qualunque forza tenti di spostare il nostro sasso a patto che la forza sia inferiore o uguale a questo valore ok non so se sono stato chiaro mettiamolo in questo modo se prendo un corpo su un piano orizzontale ok allora questo corpo è inquiete quindi la reazione vincolare bilancia bilancia il peso d'accordo se lo inclino con inclinazioni via via crescente a un certo punto ecco raggiungo un angolo massimo oltre il quale l'oggetto comincia a spostarsi d'accordo in questo caso super l'attrito in questo caso abbiamo visto che la tangente dell'angolo alfa massimo vale il coefficiente d'attrito statico ma se inclino il corpo il piano inclinato di un angolo più piccolo ok ecco questo angolo alfa che è più piccolo di alfa massimo allora il corpo è in equilibrio comunque la forza risultante è comunque uguale a zero ma la forza di attrito è più piccola di mi volte r ok la forza di attrito è quella che mi basta a bilanciare il peso parallelo che è più piccolo di quello che avrei se l'angolo fosse quello di ampiezza massima che con perché che consente l'equilibrio quindi attenzione a non usare sempre questa relazione ok per il piano inclinato voglio dire se ho il coefficiente di attrito b posso calcolare questa grandezza e questo mi dice qual è l'inclinazione massima a cui posso arrivare affinché si mantenga l'equilibrio al di là di questo di questo angolo l'oggetto si mette a scivolare ma se l'inclinazione è più bassa la forza di attrito non ha più questo valore ne ha un valore più piccolo ok e il quale valore più piccolo il valore sufficiente a tenere fermo l'oggetto e come quando lo spingono se io prendo il piano sempre lo stesso l'armadio sul piano orizzontale e gli applico una forza se la forza è troppo piccola l'oggetto non si sposta perché perché questa viene bilanciata dalla forza d'attrito e la forza d'attrito ripeto la forza quindi che contrasta il moto è al massimo mi volte la reazione vincolare quindi in questo caso mi volte il peso se io applico una forza più grande di questa grandezza allora il corpo si muove se no no ok attenzione a questo punto anche in questo caso la forza d'attrito è un po' subdola cioè ha questa caratteristica che la rende un po' peculiare se non ci sono domande proviamo un altro esercizio e diciamo per esempio dello stesso tipo abbiamo il 57 anche dice la rampa di carico di un magazzino è inclinata di 20 gradi quindi è un piano inclinato di 20 gradi questo angolo alfa i 20 gradi e su di essa è fermo un carrello m con una massa di 130 kg invece rappresenta le forze che agiscono sul carrello e calcolo l'intensità dell'erazione vincolare della rampa in questo caso se il carrello è fermo le forze sono sempre le solite tre c'è la forza peso la reazione vincolare perpendicolare al piano e qualche forza che lo tenga in equilibrio tipicamente potrebbe essere la forza di attrito oppure uno che spinge il carrello oppure la forza di attrito allora la reazione vincolare r è dato dalla parte del peso perpendicolare al piano quindi p per il coseno dell'inclinazione alfa mentre la forza equilibrante x fosse l'attrito sarebbe p parallelo cioè p per il seno di alfa quindi se sono 130 kg la reazione vincolare vale 130 kg per 9,81 metri al secondo quadrato per il coseno di 20 gradi che nel caso nostro ci dà allora 130 per 9.81 per il coseno di 20 gradi e quindi la forza equilibrante mentre la forza equilibrante o forza d'attrito cioè quella forza che tiene fermo il carrello parallela al piano è p per sen alfa e quindi 130 kg per 9.81 per il seno di 20 gradi e otteniamo 436,2 newton qui i libri approssima questa circa 1200 newton comunque va bene lo stesso d'accordo? ci sono domande? l'abbiamo un costo interessante questo esercizio il 49 pagina 234 dice una molla disposta in orizzontale a un estremo fissato al muro facciamo il disegno questo è un piano orizzontale e questo è il muro e qui è fissato l'estremo della molla e qui c'è l'estremo libero l'altra estremità è legato a un mattone che ha un peso il peso del mattone è di 27 newton ok? la costante elastica della molla K vale 180 newton su metro e il coefficiente d'attrito tra il mattone e il pavimento è di 0,9 ok con la mano dice afferri il mattone e lo fai strisciare sul pavimento fino ad allungare la molla quindi dalla posizione A questa posizione qui che è di equilibrio lo fai da trascine in B e adesso la molla sposti il mattone da A verso B e in questo caso ottieni questa situazione abbiamo sempre il piano orizzontale il muro la molla è attaccata in questo punto e solo stavolta il mattone adesso è in B e l'allungamento della molla è ovviamente della distanza AB che il testo ci dice essere di 20 cm quali sono i moduli delle forze elastiche della forza e della forza al distacco tra mattone e pavimento si lascia andare il mattone questo si mette in moto o no allora qui nella situazione in cui il mattone è in B qui abbiamo la forza peso che agisce sul mattone sempre verticale la reazione vincolare verso l'alto la forza elastica indichiamola in viola che spinge a sinistra la forza elastica E e la forza d'attrito che spinge verso destra perché si oppone al moto ok allora andiamo a vedere le varie forze il peso P il peso P è dato da M per G quindi ah se no ce l'avevamo già dato 27 newton vabbè ancora meglio 20 scusate 27 newton la reazione vincolare R è uguale al peso quindi anche questo è 27 newton la forza elastica vale K volte l'allungamento quindi 180 newton su metro per 20 centimetri quindi 0,2 metri quindi questa misura 180 per 0.2 36 newton la forza di attrito vale il coefficiente di attrito per la reazione vincolare ovvero sia per il peso quindi 0,9 per 27 newton quindi viene per 27 viene circa 24,3 newton ora qual è la situazione il corpo è in equilibrio beh verticalmente le due forze si bilanciano cioè la resistenza R bilancia il peso orizzontalmente la forza elastica tende a far muovere il blocco verso il matone verso il sinistra ma a questa si oppone la forza di attrito ripeto la forza risultante vale peso più reazione vincolare più la forza elastica più la forza di attrito ciascuna col suo verso quindi parallelamente al piano il peso viene bilanciato dalla reazione vincolare quindi non c'è molto scusami perpendicolarmente al piano al al pavimento o al piano orizzontale parallelamente al pavimento con la superficie orizzontale abbiamo che la forza risultante se prendiamo come verso positivo quello verso destra questo prendiamo il verso più allora è dato della differenza tra la forza di attrito meno quella elastica che punta a sinistra qui togliamo il vettore perché abbiamo proiettato e qui abbiamo che la forza d'attrito vale 24,3 newton 24,3 meno la forza elastica che è 36 newton quindi la forza risultante non è zero quindi 24,3 e meno 11,7 newton e punta verso sinistra quindi la forza risultante è diversa da zero e quindi non c'è equilibrio cioè quando io rilascio il mattone la molla è in grado di spostarlo perché la forza elastica è più grande di quella d'attrito ok quindi si sposta visto il segno del risultante verso sinistra ci sono domande